E per noi è un altro banco di prove importante, capire quanto di buono abbiamo fatto in queste due partite, pur non vincendo. Quindi l'obiettivo è cercare di dare continuità di prestazioni e di risultati in un campo difficile. Qualche situazione ancora, ho ancora dei dubbi, soprattutto a livello proprio fisico di qualche giocatore. Di cambiare un paio è un po' l'idea, due o tre. Affrontiamo una squadra che sta bene proprio mentalmente, fisicamente, l'ho vista, quindi per loro è un valore in più. Però anche per noi, perché è vero che in casa abbiamo capito che possiamo essere una squadra fastidiosa per altri. Adesso anche fuori casa lo dobbiamo diventare. Tulli non verrà, purtroppo, è un'altra pedina importante, ma penso che oramai sia sulla via della guarigione. Credo che solo domani e da settimana prossima ci sarà. Amadio viene, però ancora non ha assolutamente, magari, in questo momento più che mai. Io lo farei giocare subito, però purtroppo ancora non ha quei minuti, insomma, io spero di 25, mezz'ora, quello che è. Ho sempre detto che Barbuti aveva bisogno di minuti, li ha fatti, adesso può partire lui, poi abbiamo subito sostituto. Pensare a una staffetta è anche un'idea futuristica nel fatto che possono dare il meglio in un tempo, 50 minuti, o magari uno dà di più, l'altro giocherà la partita successiva. Suomare ha fatto un primo tempo, credetemi, ha sbagliato qualcosa, però ha fatto un sacrificio incredibile. Gli avevo chiesto questo, gli avevo chiesto questo, è stato, a mio avviso, ha fatto bene. Ed è un ruolo che può fare anche in futuro, perché lui ad Avellino, come vi dicevo, ha fatto anche la seconda punta. Mi piace pensare se dovessi fare in futuro, lavorare con il 3-5-2, 5-3-2, come si dica, almeno un offensivo, ma in futuro anche l'altro. Pacio Terracino è un po' come Somare, sono esterni, ma quando giochi in quella posizione che puoi andare dove vuoi, sia a destra e a sinistra, non dai punti di riferimento, quindi anche per lui può diventare una situazione dove puoi esaltare le sue caratteristiche, però il quinto non penso che faccia per me. Sono anche lì un ex, sono stato benissimo, sulla carta avevo vinto il campionato, l'anno in cui il Teramo l'aveva vinto anche loro, quindi pensate che in quel momento lì, quando ci furono tutte le situazioni che si erano create, la possibilità di andare in Serie B per noi era elevatissima, perché avevamo perso la finale play-off, quindi c'era l'opportunità, invece abbiamo perso sia in campionato, perché hanno dato tre punti al Novara, siamo arrivati primi a pari punti, abbiamo perso i play-off col Como, quindi oltre il danno alla beffa, però mi sono trovato molto bene.